Ciao a tutti, continuiamo con l'argomento sull'iperbole. Oggi in particolar modo mi voglio soffermare però sulla posizione reciproca tra una retta e un'iperbole. Prima di iniziare vi invito a iscrivervi e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati per i prossimi video che usciranno. Inoltre, se argomenti come questi vi piacciono non vi dimenticate di lasciare un like e se non trovate qualche argomento sul mio canale scrivetemelo pure sotto nei commenti in modo tale che io possa farci un prossimo video. Allora, iniziamo subito col dire che cos'è un iperbole. Anche se tutta la parte teorica io già l'avevo affrontato in un altro video che vi lascio il link qua sopra. In geometria analitica l'iperbole è quel luogo geometrico dei punti del piano per cui è costante la differenza che abbiamo se prendiamo un punto generico della nostra iperbole e due punti fissi che vengono chiamati anche fuochi. Inoltre, non vi dimenticate che l'iperbole risulta essere una conica. Fatta un'introduzione e visto giusto la definizione di che cos'è l'iperbole andiamo a soffermarci sull'argomento del giorno. Quindi andiamo a capire effettivamente la posizione che una retta può assumere rispetto a un iperbole. A breve potrete vedere effettivamente che la posizione di una retta rispetto all'iperbole si fa sempre nello stesso modo come avevamo visto con le altre figure geometriche. Quindi sia che noi prendiamo un iperbole, una parabola o comunque una circonferenza e così via la posizione reciproca di una retta con la rispettiva figura si studia sempre nello stesso modo. Infatti una retta, nel nostro caso specifico con l'iperbole, può essere esterna, tangente o secante. Per vedere effettivamente però la posizione che una retta può assumere rispetto all'iperbole bisogna fare un sistema. Ovvero all'interno del nostro sistema andiamo a mettere l'equazione della retta che qualora ci venga data usiamo quella dell'esercizio oppure della retta generica. Quindi y uguale mx più q. E oltre a questa equazione andiamo a inserire anche però l'equazione dell'iperbole. In questo modo è come se noi stessimo andando a considerare l'intersezione tra queste due figure. Sia quindi andiamo a prendere la retta sia l'iperbole. E nel caso in cui, svolto appunto il nostro sistema, otteniamo che il delta dell'equazione di secondo grado che uscirà facendo appunto il sistema tra queste due figure, se questo dovesse uscire maggiore di zero allora vorrà dire che il nostro sistema avrà due soluzioni reali e distinte e quindi le nostre due figure, quindi la retta, andrà a intersecare la nostra iperbole in due punti. Quindi la retta sarà secante. Invece, quando il delta del nostro sistema esce uguale a zero vorrà dire che le nostre due soluzioni risultano essere reali ma coincidenti. Quindi effettivamente la retta toccherà la mia iperbole in un unico punto e quindi la retta sarà tangente. E infine, quando il delta risulta essere minore di zero, siccome noi sappiamo che in un'equazione di secondo grado il delta non può mai essere minore di zero perché appunto non esistono soluzioni reali, allora vorrà dire che queste due mie figure, quindi la retta e l'iperbole, non si toccheranno mai. Infatti la retta sarà esterna alla mia iperbole. Soffermiamoci ora però sulle rette tangenti ad un'iperbole. Allora ipotizziamo che noi abbiamo sia l'equazione di un'iperbole ma anche un punto P di coordinate x0, y0 e vogliamo trovare, se esistono, le rette tangenti alla mia iperbole. Allora, quello che bisogna fare è partire dal fascio di rette. Quindi noi dobbiamo considerare qualsiasi retta che passa per questo punto specifico P che ci è stato dato. Quindi noi usiamo la formula proprio y meno y del punto uguale al coefficiente angolare che noi però non conosciamo, quindi m, per x o meno x del punto. Mettiamo a sistema questa equazione della nostra ipotetica retta con l'equazione della mia iperbole. Mettendolo a sistema otteniamo appunto un sistema di due equazioni dove però dobbiamo andarci a calcolare il delta. Infatti, successivamente, diciamo, con il metodo di sostituzione o di confronto a qualsiasi metodo voi vogliate usare per risolvere questo sistema, ci andiamo a trovare il delta. E affinché appunto noi possiamo trovare delle rette tangenti alla mia iperbole, il delta lo dobbiamo imporre direttamente uguale 0. Il delta però, se ci fate caso, uscirà con un'ulteriore incognita perché la nostra m, quindi il nostro coefficiente angolare della nostra retta, non era conosciuto, quindi era un'ulteriore incognita. A questo punto la m potrà essere un'ulteriore equazione di secondo grado o un'equazione di primo grado. Quindi, qualora fosse un'equazione di secondo grado, bisogna fare un'ulteriore delta, quindi è come se noi stiamo andando a calcolare il delta di m per trovare effettivamente le due soluzioni che potrebbe avere la mia m. Oppure, qualora dovesse uscire un'equazione di primo grado, troviamo subito la soluzione del mio coefficiente angolare. Quindi andiamo a trovare proprio la soluzione di m. Trovata la m, me la vado a sostituire all'interno della mia retta, quindi del mio fascio di rette che avevamo impostato all'inizio. In questo modo mi vado a trovare o una retta tangente o due rette tangenti, oppure qualora addirittura il delta dovesse uscire diverso da zero, quindi minore o maggiore di zero, allora siamo proprio nelle altre condizioni, quindi che la retta risulta essere secante oppure esterna alla mia iperbole. Per concludere questo video ora, andiamo a vedere giusto un esempio pratico. Allora, l'esercizio che oggi voglio vedere è determina i punti di intersezione, qualora questi dovessero esistere, tra una retta di equazione y uguale x meno 3 e un iperbole di equazione x al quadrato fratto 15 meno y al quadrato fratto 6 uguale 1. Allora, per trovare punti di intersezione, qualora appunto la retta interseca la mia iperbole, bisogna mettere a sistema queste due equazioni. Quindi mettiamo l'equazione della mia retta e l'equazione della mia iperbole. E poi successivamente, con ad esempio il metodo di sostituzione, che è quello più immediato, andiamo a risolvere questo sistema. Quindi l'equazione della retta io me la vado a riscrivere, mentre mi prendo questa y e me la vado a sostituire all'interno della seconda equazione. quindi al posto della mia y vado a scrivere proprio x meno 3, ma essendo elevato al quadrato andrò a scrivere al quadrato tutto fratto 6 uguale 1. Quest'equazione, siccome è uscita un'equazione di secondo grado, me la vado a studiare un attimo separatamente. Quindi x al quadrato fratto 15 meno... Al numeratore abbiamo un quadrato di binomio, quindi andiamo a fare x al quadrato più 9 meno 6x tutto fratto 6 uguale 1. Affinché questa equazione risulta essere un po' più, diciamo, anche carina da vedere o semplice poi successivamente da studiare, andiamo a fare il minimo comune multiplo in modo tale da non ottenere più queste frazioni. Quindi tra 15 e 6 il minimo comune multiplo sarà proprio 30. Quindi abbiamo un 2x al quadrato meno... Immaginate come se al denominatore avessimo 30. Quindi 30 diviso 6 abbiamo 5, quindi meno 5x al quadrato meno 5 per 9, 45. Ricordatevi che questo meno deve essere moltiplicato per tutti i numeri che si trovano al numeratore. Quindi abbiamo fatto meno per più e viene meno. Meno per più e viene meno. In questo caso però abbiamo meno per meno e viene più. Il numeretto da moltiplicare è sempre 5, quindi 6 per 5 abbiamo più 30x uguale 30. Allora, continuiamo con i nostri calcoli. Laddove è possibile andiamo a sommare. Quindi abbiamo meno 3x al quadrato più 30x, metto anche in ordine, questo più 30 me lo porto di qua e viene meno 30, quindi meno 75 uguale 0. Vado a dividere tutto per 3 e anche per questo meno, in modo tale che la x al quadrato risulta essere positiva. Quindi abbiamo x al quadrato meno 10x più 25 uguale 0. A questo punto abbiamo ottenuto un'equazione di secondo grado. dobbiamo trovare proprio la nostra x e mi vado a trovare il nostro delta. Quindi delta sarà uguale 100 meno 4 per 25, ovvero 100. Quindi abbiamo ottenuto proprio un delta uguale 0. Ricordiamoci, delta uguale 0 vuol dire che la mia retta risulta essere tangente. Quindi sicuramente ci deve uscire un unico punto, quindi un'unica soluzione. Infatti, se noi andassimo a fare x 1, 2 che però devono coincidere, abbiamo meno b e quindi abbiamo più 10 più o meno la radice di delta che farà proprio 0 tutto fratto 2. Quindi abbiamo ottenuto che la mia x quindi la mia scissa del punto sarà proprio 5. Trovata la x però devo andare a trovare la rispettiva y quindi prendo questo x uguale 5 e me lo vado a sostituire nella retta. Quindi è come se noi dalla seconda equazione abbiamo trovato che x è uguale 5. Prendo questa soluzione e me la vado a sostituire sopra e quindi ottengo 5 meno 3 uguale 2 ovvero ho ottenuto un unico punto in cui la mia retta va a toccare la mia iperbole quindi la retta sicuramente, come dicevo prima, sarà tangente all'iperbole nel punto di coordinate 5, 2. e questo è proprio il punto che ci era stato richiesto dall'esercizio. Bene, io con questo per oggi termino spero che sia tutto chiaro se avete qualche dubbio scrivetemelo pure sotto nei commenti così che io possa aiutarvi. Noi poi ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo argomento. Ciao!